Dobbiamo parlare di questo Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana. Che cos'è il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana? È un tribunale, è il tribunale di grado più alto a livello amministrativo. È il Consiglio di Stato della Sicilia, che poi tra l'altro non è una cosa diversa, quindi è il tribunale di secondo grado, primo grado c'è il TAR e in secondo grado troviamo in Italia il Consiglio di Stato, si chiama, e in Sicilia si chiama il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, che poi è la stessa cosa, cioè diciamo che questo Consiglio di Giustizia in Sicilia è una sede di staccata del Consiglio di Stato, tant'è che il Presidente di questo Consiglio è un Presidente di una sezione del Consiglio di Stato. Perché c'è questa differenza quindi? Perché la Sicilia è una regione a statuto speciale. La Sicilia è fin dal 46 che ha uno statuto speciale e questo tribunale è stato istituito nel 48, sulla base dell'articolo 23 di questo statuto speciale, istituito con decreto appunto del 46. Fatta questa premessa perché uno potrebbe chiedersi ma cos'è sto tribunale? Perché io non ho mai sentito, è soltanto per dire che è un tribunale speciale che comunque esiste solo in Sicilia. perché la Sicilia tra l'altro in base allo statuto speciale può anche legiferare in via esclusiva in determinate materie. Per questo che è il statuto speciale. Detto questo abbiamo quindi questa sentenza perché è stata preceduta da, che poi non è una sentenza, è un'ordinanza. Io sono un avvocato e quindi devo precisarle queste cose. È un provvedimento che non è una sentenza, è un'ordinanza. Ed è un'ordinanza che è stata emessa a seguito di una sentenza del TAR. Perché qui abbiamo un ragazzo che frequentava la scuola per infermieri. Faceva l'università scuola per infermieri. Doveva finire il suo corso di studi e non è stato più ammesso nell'ateneo perché non si era vaccinato. Non aveva assolto all'obbligo vaccinale. Lui sentendosi leso ha fatto ricorso al TAR e il TAR gli ha dato torto. Ovviamente non convinto, è un studente tenace, ha presentato appello al Consiglio di Giustizia Amministrativa. Questa corte, questo giudice, che cosa ha deciso? Perché il ricorrente, l'appellante, ha presentato una serie di argomentazioni interessanti. Che poi sono quelle che presentiamo anche noi, gli avvocati, ai vari giudici, quando impugniamo la sospensione dei sanitari. Le questioni sono tante perché noi riteniamo che questo obbligo vaccinale sia illegittimo, incostituzionale per tutta una serie di motivi che riguardano e il profilo scientifico dove andiamo a enunciare, dove andiamo a presentare al giudice i tantissimi studi scientifici, quelli della scienza vera, non quelli della scienza a libro paga di Big Pharma o delle istituzioni. La vera scienza che c'è, imparziale, che non ha conflitti di interessi e che ci presenta questo vaccino come pericoloso, ci dice tutte le criticità di questo vaccino, che il vaccino non è, è un trattamento genico. Poi oltretutto, avvocato, scusi lo dico, questo come c'è scritto qua, addirittura questa persona era guarita, aveva avuto il Covid ed era guarita. Infatti stavo arrivando. Ah, scusi, scusi, scusi. No, no, niente, niente. Tra le varie motivazioni ha anche detto io ho uno status anticorpale perenne perché io ho fatto il Covid, sono guarito, ha fatto il sierologico e ha visto che aveva gli anticorpi altissimi anti-spike. Quindi giustamente il ragazzo tramite il difensore faceva notare io rischio anche il fenomeno ADE se mi vado a vaccinare. Ha presentato tutta una serie anche di argomentazioni e personali e generali interessanti che vanno a criticare e a mettere in evidenza l'ingiustizia di questa vaccinazione che ci stanno tutti, sono tutti fondati, sono quelli che presentiamo sempre in tutti i ricorsi a tutti i giudici. I ricorsi sono tanti e quindi sono tanti i giudici informati di queste criticità, di questa vaccinazione che è vaccinazione. Per farvela breve, perché non posso starvela a commentare tutta perché è vastissima questa materia, dovremmo stare almeno 3-4 ore a parlarne. Io lo farei anche volentieri per voi, però magari voi giustamente vi stancate anche perché è una materia molto tecnica. Tra le varie eccezioni che presenta l'appellante c'è quella di incostituzionalità e qui tocchiamo l'argomento che piace tantissimo all'avvocato Pini e anche a tanti altri avvocati. Perché noi riteniamo che questo obbligo di vaccinazione, che vaccinazione non è, è anticostituzionale, viola la Costituzione, viola l'articolo 32 della Costituzione e tutta la migliore giurisprudenza della Corte Costituzionale che abbiamo da 25 anni a questa parte. Abbiamo parlato molto bene di questa cosa col professor Sinagra che è un grande in argomento e ha detto delle cose interessantissime. A fronte di questa eccezione di incostituzionalità, la Corte cosa ha detto? La Corte ha detto, allora l'appellante ci dice che non è costituzionale questo obbligo. Per capire se questa eccezione dell'appellante è fondata o meno, abbiamo bisogno di alcuni elementi. Cioè la Corte dice, io per poter mandare questa eccezione alla Corte Costituzionale devo capire se questa eccezione, questa lamentela, è fondata o meno. Non posso mandagliela così, con me. Stabilire se è fondata o meno spetta a me come Corte, in primis. Ma io faccio giudice, dice la Corte, e per capire se è fondata o meno questa eccezione ho bisogno di elementi tecnici e questi elementi tecnici glieli chiedo a un organismo tecnico e infatti questa Corte ha nominato un collegio, un collegio se vogliamo di periti. Chi è questo collegio? Ce lo dice la sentenza. ci dice che questo collegio sarà composto dal Segretario Generale del Ministero della Salute, dal Presidente del Consiglio Superiore della Sanità Operante presso il Ministero della Salute e dal Direttore della Direzione Generale di Prevenzione Sanitaria, i quali dovranno fare i seguenti accertamenti, cioè dovranno raccogliere i seguenti elementi che servono a me come giudice per capire se l'eccezione di incostituzionalità è fondata o meno. E che cosa quindi mi dovranno dire questi consulenti? Allora, la Corte lo dice chiaramente. Mi dovranno dire se questo trattamento anti-Covid incide negativamente sullo stato di salute di colui che è obbligato a farlo, ferma restando la tollerabilità di effetti collaterali di modesta entità e durata. Hai capito cosa sta chiedendo la Corte a questo collegio di tecnici? A che punto è quello che sta leggendo, Avvocato? L'1-1? No, io sono praticamente al punto 9.2. No, più avanti. 9.2, eccolo qua, eccolo qua. 9.2. Ai fini, vedete, ai fini della valutazione della non manifesta infondatezza della questione di costituzionalità, tradotto vuol dire la lamentela del ricorrente è fondata o non è fondata? Allora, al fine di stabilirlo, occorre verificare se l'obbligo vaccinale per il Covid soddisfi le condizioni dettate dalla Corte in tema di autodeterminazione sanitaria dei cittadini in abito vaccinale sopraindicate, ossia non nocività dell'inoculazione per il singolo paziente e beneficio per la salute pubblica. Io preferisco riassumerteli come ho fatto io, che li ho fatti in maniera più semplice, così chi ci ascolta capisce. Cioè, la Corte quindi chiede a questi tecnici, mi dovete dire, se il trattamento incide negativamente sullo stato di salute di colui che vi è assoggettato. Soprattutto mi dovete dire se è assicurata alla persona che è obbligata a vaccinarsi un'adeguata notizia circa i rischi di lesioni, nonché delle particolari precauzioni che sempre allo stato delle conoscenze scientifiche siano rispettivamente verificabili e adottabili. Qui va a toccare il discorso se chi viene sottoposto a questa vaccinazione viene informato adeguatamente in base alle conoscenze scientifiche. In particolare, la Corte vuole sapere se la scelta vaccinale possa essere rivalutata e riconsiderata alla luce dei nuovi dati scientifici acquisiti. Perché all'inizio, quando hanno imposto questo obbligo vaccinale, c'era questo stato pandemico, almeno a se arrivano a esserci, e quindi dicevano che era assolutamente necessario vaccinare perché se no saremmo morti tutti quanti. Però adesso, via via che hanno somministrato la vaccinazione di massa, ebbè sono emerse nuove conoscenze scientifiche, medico-scientifiche, no? Per esempio, è emerso che il virus si è attenuato, non ha più la carica virale. Questo è naturale, che dopo un po' di tempo un virus si attenua, se no saremmo morti tutti già dalla preistoria. Quindi, alla luce delle nuove conoscenze medico-scientifiche, è ancora necessario mantenere questo obbligo? Oppure c'è altro modo per evitare la vaccinazione e contenere questo dramma pandemico, che poi pandemico non è? Questo sta chiedendo la Corte ai tecnici. e poi la Corte chiede anche ai tecnici. È stata rispettata la raccomandazione della Corte Costituzionale, che è contenuta nella sentenza 258 del 1994, che prevede che il legislatore, quando c'è una vaccinazione obbligatoria, debba individuare gli accertamenti preventivi idonei a prevedere, a prevenire i possibili rischi di complicanze. Questo è quello che dicevamo prima. Quando tu vai a fare una vaccinazione obbligatoria ad una persona, dovresti verificare il suo stato di salute, se è compatibile o meno con i componenti della vaccinazione. E questo richiede degli accertamenti preventivi. Questo la Corte Costituzionale lo dice dal 94. Non è che lo dice da adesso. Cioè, dice, quando voi andate a imporre un obbligo vaccinale, dovete permettere anche di fare un minimo di anamnesi, di fare un minimo di accertamenti preventivi per vedere se la situazione di salute del soggetto obbligato permetta e sia compatibile con gli ingredienti della vaccinazione. Certo è che se poi gli ingredienti della vaccinazione te li nascondono, come il grafene, diventa difficile anche fare un accertamento serio, dico io. Un'altra cosa che poi chiede la Corte, dice, sempre a questo collegio, io voglio anche sapere se il cittadino che è costretto a vaccinarsi riceve delle informazioni complete e corrette che lui stesso possa verificare facilmente liberamente, infatti parla di informazioni corrette, facilmente liberamente accessibili e inoltre voglio sapere se la sperimentazione, senti cosa chiede la Corte, guarda questa Corte veriterebbe veramente un Oscar, eh? E inoltre io voglio sapere se la sperimentazione, la raccolta e la valutazione dei dati viene fatta da parte di organismi indipendenti in quanto l'affidamento della raccolta dati al produttore del vaccino presenta profili di evidente criticità e certo chi sta raccogliendo i dati della vaccinazione? Soggetti indipendenti o li stiamo dando al produttore del vaccino che è un soggetto economicamente interessato e quindi è chiaro che potrebbe sfalsare per non dire altro per usare un neufemismo la raccolta dei dati qui la Corte dice io mi auguro che la raccolta dei dati non sia affidata alle case farmaceutiche che producono i vaccini perché altrimenti che attendibilità hanno quindi un'altra cosa che la Corte chiede a questo collegio guardate che io voglio sapere se sono state rispettate le prescrizioni che sono menzionate nella risoluzione del Consiglio d'Europa la 2361 del 2021 che cosa dice questa risoluzione 2361 del 2021? Dice delle cose importantissime perché dice quando vengono imposte delle vaccinazioni delle vaccinazioni sperimentali guardate che devono essere rispettate tutte le prescrizioni previste dalla Convenzione sui diritti dell'uomo e della biomedicina la cosiddetta Convenzione di Oviedo e il protocollo che è stato aggiunto alla ricerca biomedica 195 CET capite? Io voglio anche sapere se gli organismi di regolamentazione incaricati alla valutazione e all'autorizzazione dei vaccini contro il Covid siano indipendenti e protetti dalle pressioni politiche vi ricordate la polemica dell'EMA che riceveva pressioni e quante pressioni ha ricevuto la Commissione europea quando si è trovata a deliberare autorizzare in via condizionata l'emissione in commercio di questi vaccini ebbene questa risoluzione dice che gli antiregolatori non devono subire pressioni politiche ma è andata così punto di domanda soprattutto devono essere rispettate le norme minime di sicurezza efficace e qualità dei vaccini bisogna sicuramente implementare il monitoraggio dei vaccini cioè bisogna istituire una farmacovigilanza attiva perché voi sapete che c'è solo una farmacovigilanza passiva che contiene dati sottostimati sottostimati fino all'uno sei per cento perché non vengono segnalati le reazioni avverse non vengono segnalate insomma qui la Corte per farvela breve fa tutta una richiesta che va a toccare tutte le richieste della Corte che chiede a questo collegio sono la dimostrazione pratica che tutta la convenzione tutta la normativa europea e nazionale deve essere rispettata così come tutta la giurisprudenza da 25 anni a questa parte della Corte Costituzionale siccome questi giudici fanno i giudici e non sono in grado di avere tutti questi elementi hanno incaricato questo collegio affinché raccolga tutti questi elementi che fa anche i quesiti pone anche i quesiti la Corte ha fatto un lavoro spettacolare affinché raccolgano tutti gli elementi e li formalizzino in una relazione una relazione che dovrà essere depositata il 28 febbraio 2022 la Corte è andata oltre ha fissato anche l'udienza il 16 marzo 2022 quindi successivamente a deposito di questa relazione dove il collegio o anche uno di loro gli altri potranno delegarlo comparirà davanti ai giudici per discutere di questa relazione e avere tutti i chiarimenti necessari ti faccio notare che per questo incombente istruttorio cioè di raccolta prove di raccolta di elementi la Corte ha stabilito un fondo spese un fondo spese per pagare l'organo giudicante un fondo spese di 1000 euro che ha messo a carico dell'amministrazione resistente e anche questo è da notare è molto importante quindi una volta raccolti questi dati in questa relazione la Corte sarà in grado di dire se la lamentela di incostituzionalità del ricorrente e questo sarà tra un mese è fondata o non è fondata io ritengo alla luce di tutto quello che ho letto che sarà fondata e se come credo ci sarà rinvio alla Corte Costituzionale che si dovrà pronunciare vi ricordo che laddove la Corte Costituzionale che sarà messa nella condizione di giudicare anche velocemente perché qui i dati vengono raccolti in via preventiva prima di andare alla Corte Costituzionale e beh laddove la Corte Costituzionale ravvisasse come spero che c'è effettivamente la lesione della Costituzione l'obbligo vaccinale cadrebbe perché sarebbe dichiarato incostituzionale e quindi tu non puoi applicare quella legge perché viola la legge fondamentale dello Stato e questo viene detto dall'organo preposto che è la Corte Costituzionale è importante questa sentenza questa sentenza che poi è un'ordinanza io continuo a dire sentenza presa dall'entusiasmo io voglio riporre tanta speranza in questa ordinanza perché è la prima volta che la vediamo è un anno che la chiediamo e lo ha fatto il Consiglio di Stato della Sicilia e ben venga alleluia ben venga e speriamo che le cose vanno come devono andare perché ve l'ho sempre detto quando il giudice fa il giudice come lo conosciamo nella nostra Costituzione e giudica secondo Costituzione legge e imparzialità i risultati si vedono e quindi ci sono delle grandi speranze in questa in questo provvedimento di questa Corte che tra l'altro ha richiamato la sentenza 70-45 dell'ottobre del Consiglio di Stato che io ho dichiarato vergognosa perché negava anche che il vaccino fosse sperimentale e comunque era un vaccino sicuro e efficace come facesse a dirlo seppur autorizzato in via condizionata però dice un qualcosa in più questa Corte dice sì vabbè all'epoca per le conoscenze scientifiche che avevamo in ottobre poteva andare bene quella sentenza però adesso ci sono novità nel mondo scientifico perché via via che la vaccinazione continua vengono fatte sempre più ricerche si manifestano anche reazioni avverse di una certa gravità che rimettono in discussione il rapporto beneficio rischio messo dalla Corte dal Consiglio di Stato alla base della sua decisione perché voi sapete che man mano che raccolgono i dati che fanno la vaccinazione e raccolgono i dati questi dati vanno a incidere sul rapporto beneficio e rischi allora se due mesi fa erano più benefici rispetto ai rischi alla luce dei nuovi dati raccolti abbiamo che sono più i rischi rispetto ai benefici e rischi rispetto ai rischi